buongiorno ben ritrovati cari telespettatori buongiorno a tutti oggi giovedì 16 giovedì 16 di novembre questa è fano tv la rassegna stampa del mattino con la lettura dei giornali il corriere adriatico il resto del carlino come come sempre allora vediamo subito il santo del giorno oggi la chiesa ricorda santa geltrude il sole sorto alle 7 05 tramonterà le 16 41 vediamo il tempo qui siamo su trebimeteo.it questa è la immagine la grafica della giornata di oggi questo il mattino poi il pomeriggio vedete ancora schiarite con qualche pioggia soprattutto nella parte meridionale della regione la protezione civile delle marche per oggi prevede un cielo nuvoloso in particolare sul settore meridionale appunto delle marche nella prima parte della giornata avremo possibilità di deboli fenomeni residui nel settore meridionale temperature senza variazioni di rilievo i venti saranno nord occidentali per domani venerdì 17 novembre cielo parzialmente nuvoloso a tratti nuvoloso con deboli precipitazioni brevi ed isolati piovaschi soprattutto nelle zone della montagna e limitatamente al sud le temperature sono in diminuzione nei valori minimi stazionarie o in lieve aumento quelle invece massime attenzione i venti ancora soffieranno di brezza tesa a tratti moderati lungo la costa per sabato il tempo migliora ancora anche se avremo possibilità di brevi ed isolati rovesci le temperature sono in aumento ancora sabato dunque giornata un po incerta però seguirà tempo stabile durante la prossima settimana i giornali questa mattina il correa adriatico la pagina di principale la pagina di pesaro apre con la sfida al degrado del sindaco pesarese matteo ricci poker di cantieri ricci si sbilancia pronti per il 2020 presentata la riqualificazione dell'area che da via dell'acquedotto porta alla stazione poi a centro pagina invece lotta al lavoro nero scatta il blitz un'operazione effettuata nell'area artigianale di case bruciate sempre a pesaro controlli dei carabinieri all'interno di un'azienda verifiche su personale e documentazione la cronaca la pioggia killer la contessa killer la strada della contessa dove è morto ieri un operaio di 27 anni il pick up sul quale viaggiava ha sbandato e si è ribaltato in curva l'incidente a ponte riccioli fratture e traumi per il passeggero stavano tornando a gubbio da caglie questa è la fotografia del pick up lo vedete che è uscito fuori strada qui sopra c'era questo giovane gubbino di 27 anni con lui anche il collega di lavoro stavano rientrando appunto dal lavoro intorno al 5 del pomeriggio lungo la strada della contessa nel territorio del comune di cantiano il conducente ha perso il controllo e si è scantato contro un muretto sul lato destro della strada l'impatto del mezzo fuori controllo con la scarpata è stato violentissimo alla base dell'incidente l'asfalto reso viscido dalla pioggia il ferito invece è stato ricoverato al bar al ve lo leggo meglio al branca allora andiamo adesso invece sulla pagina di fano del corriere adriatico politica unita per il centro di cure palliative pediatriche unanimità sulla mozione del centro destra l'ex convitto colonna indicato come sede la regione attualmente prevede questa struttura solamente all'ospedale salesi a fano invece c'è un ambulatorio nuove regole per l'arredo urbano nel centro storico penalizzati 15 esercenti l'accusa di ser filippi alla giunta il testo blindato dal centro sinistra niente emendamenti non solo per quanto riguarda il palazzetto il nuovo palazzetto dello sport a fano è indispensabile però avere un progetto perché altrimenti è inutile andare a bussare oppure è impossibile andare a bussare a destra manca ci vuole un progetto sul quale poi iniziare a lavorare farabini sprona tutta la politica fanese occasioni ci sono ma ci vuole la volontà poker e cambiamo pagina su pesaro primo piano del corriere poker di lavoro e contro il degrado opere chiave in mano per il 2020 si riqualifica l'area che da via dell'acquedotto arriva alla stazione 11 milioni per 67 mila metri quadrati dopo il teatro tocca ai camper poi al parco avventura e poi al bocciodromo il sindaco ribatte alle critiche piove il sottopasso della stazione pesarese ecco qua il frame con l'immagine del video girato da uno dei passeggeri ieri mattina mentre continuava a piovere incessantemente e dicevo il sottopasso della stazione ferroviaria di pesaro diventa una piscina la protesta dei pendolari diretti a prendere il treno cambierà il protocollo sugli appalti il comune recepisce le indicazioni dei sindacati correttivi saranno introdotti nei prossimi bandi già l'assegnazione della scuola di via la marmora si baserà su altri criteri anche qui siamo sul pesaro primo piano più turisti ma l'incasso non torna il comune registra una somma inferiore al previsto nella riscossione della tassa di soggiorno contro i furbetti della ricettività partite le ingiunzioni di aspes per recuperare i mancati introiti lotta al lavoro nero scatta il blitz operazione nell'area di case bruciate controlli dei carabinieri all'interno di un'azienda acquisita tutta la documentazione un'indagine coordinata dalla procura con il supporto dell'ispettorato e andiamo adesso sulla pagina della valle del cesano ieri la pioggia ha creato diversi problemi e così è stato anche all'interno di una scuola materna a Pergola tutti i bambini così sono stati rimandati a casa l'edificio chiuso fino all'esecuzione dei lavori di manutenzione che partiranno oggi un cartello è stato affisso sul cancello che ha comunicato l'inconveniente causato da queste infiltrazioni per le copiose piogge e sempre la pioggia che ha causato tantissimi problemi anche sulle strade guardate questa fotografia è un cartello sulla provinciale 102 visto di notte dall'interno di un'auto è un video che poi sta facendo un po' il giro dei social qui perlomeno nel territorio siamo a Monteporzio c'è stata incredulità anche stupore e un po' di rabbia soprattutto perché l'altra sera per questi automobilisti in transito sulla strada provinciale 102 di Monteporzio a un certo punto un cartello segnava pericolo di frana ma era posizionato praticamente quasi al centro della carreggiata e ha costretto numerosi conducenti a manovre azzardate e brusche frenate per evitare l'impatto siamo sulla pagina di Tavuglia del Corriere bambini in palestra a piedi ma solo nella bella stagione la sindaca di Tavuglia ha incontrato i genitori di elementari e scuole medie per i più grandi subito l'autobus mentre nella pagina di cronaca in 5 minuti del Corriere Adriatico vi facciamo vedere, va tanto così per curiosità, di questa auto bellissima, costosissima che la Lamborghini ha donato al Papa ma giustamente il Papa per proseguire anche nel suo stile così come l'abbiamo cominciato a conoscere ormai da un po' di tempo stile francescano quindi di povertà il Papa vorrebbe una chiesa povera fosse per lui venderebbe tutto ciò che è sfarzoso ma poi deve scontrarsi ahimè con il resto della chiesa, della comunità però ha deciso di donare, di mettere all'asta questa Lamborghini che le è stata donata e i soldi li darà a una comunità di Rimini da Senigallia invece, questa notizia, vi do il titolo ma insomma fate voi adesso, ognuno ha la sua chiaramente la sua intelligenza per dare, per giudicare insomma una notizia del genere però io voglio essere sottomesso dalle donne bello schiavo, scatena la sua fantasia Ott, ha 34 anni, vive a Senigallia e lui racconta mi piace essere calpestato, ricevere qualche schiaffo ma niente, frustate insomma vabbè, forse una visita dal medico gli farebbe bene Pioggia Mortale siamo sul resto del Carlino Pioggia Mortale un 27enne va fuori strada lungo la Contessa vicino a Cantiano perde la vita schiantandosi contro un terrapieno con lui c'era un amico, ferito lieve che è stato trasportato all'ospedale tutta la provincia sotto abbondanti precipitazioni sopra invece Don Milano in palè la palestra allagata e le mura incrostate di muffa la protesta delle mamme nelle elementari di Villa San Martino che sono state costrette a prendere stracce e secchi perché il comune dicono non si muove la dirigente ha detto segnalazioni fatte più volte evidentemente si deve aspettare ancora e poi Concetti che risponde al GIP raggiunge dunque i domiciliari l'inchiesta di Pescara per Bancarotta l'imprenditore ha anche problemi di salute e quindi il giudice lo ha rimandato a casa i domiciliari oggi tutta Cagli invece piange Oreo e Giuliano alle 10.30 l'addio a Naccheri o Naccheri, Naccheri non lo so nel pomeriggio alle 14.30 invece quello a Vagnarelli il ricordo degli amici del barbiere che dicono dalla confraternita al basket era impegnato nel sociale il presidente della banda cittadina Paleani dice Naccheri non una gran persona e amante della musica il fotoreporter invece guardate questa fotografia così ho immortalato il riposo del lupo Giuseppe Mazzarella 44 anni ha realizzato il suo sogno di avventuriero nei boschi piove, tutti a casa infiltrazioni all'asilo a Pergola l'amministrazione dispone lavori urgenti sul tetto il plesso sarà riaperto a giorni e poi abbiamo fatto veramente tanti servizi su queste strade e finalmente è arrivato il risultato nel telegiornale ce ne siamo occupati anche qualche sera fa ebbene arriva la toppa dice il giornale ma sono stati stanziati 150.000 euro la provincia interviene sulla statale 115 Santa Vittoria è sulla 41 Fratterosa centro pediatrico all'ex Inam siamo sulle pagine di Fano del Carlino voto bipartisan in consiglio tutti d'accordo ma che ne pensa la regione? ok un'anima alla mozione del centro-destra e poi palazzo in fumo l'ira dei condomini gli sfollati chiedono di tornare a casa stiamo parlando dell'incendio che ha coinvolto un condominio una palazzina nel quartiere di San Lazzaro Fano i tempi però si allungano c'è in sofferenza e ci sono anche malumori tra i condomini sfollati dopo l'incendio di lunedì sera innescato dal corto circuito ai contatori elettrici Natale di effetti speciali invece andiamo verso le feste è stato presentato il calendario delle iniziative che partiranno dal 25 di novembre ci saranno tanti appuntamenti dalla Cioccovisciola a Pergola a Monbaroccio il Chiostro dei Sapori ancora c'è stato un espianto d'organi al Salvatore di Pesero il cuore in volo a Padova con l'aviazione un elicottero militare si è alzato da Rimini con la preziosa valigetta e poi la bicicletta la bicicletta la lasci dove vuoi è pronto il bike sharing 2.0 sempre a Pesero basterà un'app per rintracciare i mezzi e sbloccarsi è un progetto che prenderà il via a Pesero nella prossima primavera e i danni del maltempo qui siamo sempre sulle pagine di Pesero del Carlino il temporale arriva dentro la scuola protestano le mamme che dicono questa è una situazione inaccettabile la scuola Don Milani palestra allagata muffa nei muri balaustra pericolosa la nostra priorità dice Maria Pia Canterino è tutelare al massimo la sicurezza di tutti gli alunni l'ultima pagina è quella di Urbino ricorsi per le tasse degli studenti l'università con il fiato sospeso il direttore perfetto pronto all'evenienza studieremo i bilanci nessun ricorso per le tasse è arrivato finora se dovessero arrivare studieremo i bilanci vedremo come sono state usate le risorse se tante università italiane tremano per la possibilità che arrivino richieste da parte degli studenti per ottenere il rimborso delle tasse pagate in eccesso fino alla 2013 l'Ateneo Urbinate per ora sta a guardare e attende anche se il direttore generale Alessandro Perfetto dimostra di esserci esserci già informato essersi già informato su tutta la questione l'Ateneo deve rimborsare circa 20.000 ex studenti che per gli anni 2010 2011 e 2012 hanno pagato delle rette troppo alte nel senso che la somma delle tasse universitarie pagate da tutti gli studenti è stata superiore al 20% del fondo di finanziamento ordinario ricevuto dallo Stato tutta una serie di calcoli che però a questo punto potrebbero davvero mettere in seria difficoltà gli Atenei italiani noi ci fermiamo qui la rassegna stampa torna domani mattina grazie come sempre per la vostra attenzione vi ricordo che questo numero 338 49 68 250 è sempre a vostra disposizione per mettersi in contatto con la nostra redazione per segnalare tutto ciò che accade attorno a voi grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti